Penso che la ZTL a Palermo stia creando soprattutto benefici. Ha creato beneficio rispetto alla qualità dell'aria, che è la prima cosa, una diminuzione importante degli agenti inquinanti. Ha portato beneficio rispetto alla pressione veicolare, oggi si circola molto meglio nella zona centrale della città e anche nelle zone limitrofe. Quindi il beneficio è andato oltre lo spazio limitato della zona traffico limitato e credo che questi siano dei dati assolutamente inconfutabili. Da questo punto di vista credo che bisogna partire per discutere della vicenda delle anomalie delle multe, perché qualcuno ha voluto utilizzare queste anomalie delle multe per attaccare il provvimento ZTL che invece va difeso. Noi riteniamo che non si possa prevedere una sanatoria generalizzata per le anomalie, perché dentro queste anomalie ci sono anche molte persone che hanno pensato di accedere alla ZTL senza pagare il pass, senza rispettare le ordinanze. E poi invece dentro questa casistica ci sono alcune persone che realmente hanno dimenticato di fare il pass, residenti che avevano il pass e poi magari hanno dimenticato per qualche giorno e proprio nei vari passaggi hanno beccato diverse multe. Quindi noi abbiamo chiesto alla vacutora del comune di valutare se ci sono possibilità nel rispetto della legge per analizzare caso per caso alcune situazioni per eliminare le anomalie. Perché cittadini che hanno beccato 120-130 multe in pochi giorni dal punto di vista economico, sicuramente dal punto di vista sociale, è un disagio per la città. E credo che l'amministrazione comunale non possa infischiarsi nel disagio sociale dei cittadini. Per questa ragione pensiamo che nel rispetto delle leggi si possa trovare una possibilità per venire incontro alle esigenze di cittadini che hanno avuto questa difficoltà. Lunedì si presenta il programma di Palermo Capitale della Cultura, ci sarà una cerimonia importante con il Premier Gentiloni, il Ministro Franceschini, ma secondo lei Palermo è davvero pronta? Questo lo scopriremo alla fine del 2018, questo lo scopriremo nel 2019, nel 2020, nel 2021, perché se noi viviamo Palermo Capitale della Cultura nel 2018 come un evento di un anno o come un insieme di attività, sbaglieremo l'approccio. Io penso che Palermo Capitale della Cultura debba essere un trampolino, debba essere una radice feconda per costruire un grande spazio di visibilità internazionale della nostra città, per rappresentare un punto di approdo per tanti artisti e un punto di rilancio per tanti artisti palermitani che possono utilizzare questa platea per costruire uno spazio di visibilità della città. Per questa ragione io penso che non si possa discutere di oggi, non lo so se oggi Palermo è pronta.